Siamo qui a parlare alla festa dell'unità del diritto alla vita per tutti, siamo venuti anche l'anno scorso e siamo rimasti sconcertati in un posto del genere in cui si parla di diritti alla pace, di diritti alla vita, di uguaglianza di vedere degli animali morti nei panini, ancora questo si viene alla festa dell'unità, animali morti nei panini e ci ricolleghiamo anche al discorso che per fare beneficenza per le povere persone che sono morte durante il terremoto si potrebbe evitare di sterminare degli altri animali perché ci sono le alternative vegetali, perché è sconvolgente nel dramma continuare a sacrificare qualcun altro per raccogliere un euro, si danno da mangiare le guance di animali che sono stati sgottati, è questo che succede ai maiali, sapete quanti animali uccidono solo in Italia? 90 al secondo, mascellati! Non c'è parità di diritti, non c'è parità di diritti, è solo violenza questa ma mangiate quella del progetto! Prendiamoci il mondo dal gianto, prima di parlare di pace, di uguaglianza proprio qui all'aperto dell'unità vorremmo vedere la vera unità per tutti e la vera unità per tutti significa diritto alla vita per tutti significa non levare da mangiare ai bambini che muoiono di fame Per produrre un chilo di carne ci vogliono 15 kg di cereali, sapete quante bocche sfamerebbero 15 kg di cereali? Per produrre un chilo di carne 15.500 litri di acqua e il mondo sta morendo di sete. Per quello che siamo qui, alla festa dell'unità, dove si parla di uguaglianza, a mettere in pratica la vera uguaglianza, la vita. E' sacra per tutti! Noi siamo vegani per il pianeta che sta morendo, noi siamo vegani per le popolazioni afflitte dal terremoto che potrebbero raccogliere i soldi in altra maniera. Noi non stiamo dicendo cosa deve fare la gente nella propria vita, stiamo semplicemente dicendo di non uccidere nessuno e qua ci sembra un luogo migliore per dirlo. Ragazzi mi possiamo chiedere di intendere un po' perché... Continuando in questo modo, continuando con il mercato della carne in maniera così inesorabile e continua, fra 20 anni non esisterà più la foresta amazzonica. Stiamo distruggendo la foresta amazzonica, il polmone verde, il polmone verde per noi, per l'animale e per voi, al ritmo di un campo di calcio al secondo. Stiamo desertificando il mondo, stiamo distruggendo le foreste, stiamo distruggendo i mari, nel 2050 non ci saranno più pesci nel mare. Chi lo spiegherà alle generazioni future? Il perché non ci saranno più foreste, non ci saranno più pesci dentro gli oceani. Chi lo spiegherà alle generazioni future? Il perché il mondo si sta distruggendo. Sapete cosa succede agli animali che vengono macellati? Vengono sorditi, dopodiché vengono appesi ai ganci per le zampe posteriori e vengono sgozzati quando sono pienamente coscienti. Tutto questo lo potete trovare su internet. È questa l'ammatriciana. I maiali, in un sacco di casi, vengono buttati nelle vasche per la bollitura che sono ancora coscienti. È questa l'ammatriciana ed è sconvolgente farsi un vanto per dare soldi a chi è morto facendo morire degli altri innocenti. Noi prima, noi tutti, mangiavamo carne. Abbiamo sentito gente che come noi ci ha spiegato i motivi per cui non bisognerebbe mangiare degli altri esseri senzienti e abbiamo deciso di smettere. Sapete cosa significa essere senzienti? Che sentono il dolore, che sentono la paura. Avete dei cani? Guardate come si relazionano i cani tra di loro. E a che ne dare questo? Ai maiali, alle mucche, ai vitelli, alle galline, a qualunque altro essere. Condivida la terra con noi. Noi siamo qua, come diceva la nemica Alessandra, perché questo è il posto più giusto, il posto migliore per parlare di libertà e di uguaglianza. Quale posto migliore della festa dell'unità? Ma deve essere un'unità globale. Non possiamo sentirci superiori ad altri esseri viventi, semplicemente perché questi esseri viventi non si possono difendere. Provate a chiedervi come mai noi oggi siamo qua a manifestare per i diritti degli animali. Noi siamo antirazzisti, siamo antisessisti, siamo antiemofobia, siamo anti qualsiasi discriminazione umana, siamo anche antispecisti. Lo specismo significa carezzare alcuni animali, quindi proteggerli, animali di serie A, come cani e gatti, e poi ammazzare tutti gli altri. C'è molta gente che dice che, ad esempio, i cinesi sono inferiori a noi perché mangiano cani e gatti. Bene, noi in Italia mangiamo, anzi, chi mangia ancora la carne mangia i cavalli. In Inghilterra noi veniamo considerati come medievali, semplicemente perché ancora mangiamo i cavalli. In alcuni stati dell'America del Nord è vietato mangiare il coniglio e in Italia ancora si mangia il coniglio. Noi non siamo vostri nemici, non vogliamo essere vostri nemici, noi vogliamo che voi siate amici degli animali perché un giorno anche voi possiate capire che gli animali sono esseri senzienti e meritano di vivere quanto noi, quanto voi e quanto i vostri animali cosiddetti domestici. Grazie. Ultima cosa che voglio dire, se ci riteniamo veramente una specie così evoluta, cerchiamo di difendere il pianeta e cerchiamo di difendere tutti i suoi abitanti perché nuocere a qualcuno non fa bene a nessuno. Nuocere agli animali non fa bene a noi, non fa bene alla terra e non fa bene a nessun discorso che può fare qualsiasi politico se si prescinde dal rispetto della vita, tutto il resto è aria fritta che esce dalla bocca. Per tutti gli animali, libertà! 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 Per tutti gli animali, libertà!